Ieri sera la finale del Memoria alla Shirea in campo Inter e Juventus. Juventus che va in vantaggio dopo pochi minuti con Lombardi numero 10 che segna questo bel destro al volo in aria. L'Inter però non si perde d'animo e trova subito il pareggio, l'iniziativa di Gnucuri che è davvero bravissimo a mettere giù un pallone non facile e poi con uno spunto personale a far fuori la difesa avversaria prima di trovare il sinistro a incrociare nell'angolino che vale il momentaneo pareggio. La gara cambia perché è l'Inter a volere più la vittoria e trova il vantaggio su calcio di rigore concesso per questo chiaro atterramento ai danni di Gnucuri che ha tra l'altro un fratello che gioca con la primavera dal dischetto, non sbaglia Merola 2-1 e Inter che mette la freccia e trova il sorpasso sempre nel primo tempo. Nella ripresa arriva anche il 3-1, punizione di Esposito bellissima, il pallone sbatti sulla traversa, il tap-in a porta libera di Merola che trova la sua doppietta personale e regala ancora una volta il Memorial Shirea all'Inter il secondo anno di fila che i nerazzurri trovano la vittoria battendo in semifinale il Barcellona e in finale la Juventus. Davvero complimenti ai ragazzi di Stefano Bellinzaghi da parte di tutta l'Inter per una vittoria davvero molto molto importante quella nel Memorial dedicato a Gaetano Shirea. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.ito, chiama all'199 100 200, prova Interchannel e poi scegli.